Pescara sparanca le porte per accogliere al meglio la quinta edizione di Ecomob Expo City, il primo grande evento del Centro Sud Italia dedicato alla Green Economy e incentrato sui temi della mobilità sostenibile, del turismo attivo e dell'ecologia ambientale. Da venerdì 6 a domenica 8 maggio la città d'Annunziana sarà un punto di riferimento su scala nazionale due i punti espositivi in Piazza della Rinascita e allo Stadio del Mare. L'evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sala giunta di Palazzo di Città. La novità più importante è la location, il cambio di location quindi non più al porto turistico ma nel cuore della città di Pescara, nel cuore vibrante dell'attività commerciale ed economica della città. I temi sono gli stessi quindi la mobilità sostenibile, il turismo attivo e l'ecologia ambientale quindi tratteremo tutti i temi presentando tutte le novità presenti adesso. Diciamo che abbastanza eterogenee verranno un po' da tutta Italia toccando diverse regioni e gli stand sono circa 45. Pescara è l'ottava città in Italia secondo l'osservatorio del Ministero delle Infrastrutture per mobility sharing e quindi per utilizzo di tutti i dispositivi che noi abbiamo messo a disposizione della nostra comunità per la mobilità sostenibile. Un risultato molto losinghiero per l'amministrazione ma un risultato anche che deve comunque creare grande compiacimento anche da parte dei nostri cittadini che evidentemente sono i fruitori di biciclette, di monopattini, di scooter, sono in arrivo anche le biciclette a pedalata assistita per la prima volta a noleggio e quindi Ecomob diventa un'occasione, un'opportunità per avere ancora una volta come nelle passate edizioni un nostro stand, una nostra dimostrazione dei progetti in corso, delle pianificazioni che stiamo portando avanti per quanto riguarda il Biciplan, il piano generale del traffico urbano, tutto inquadrato all'interno del sistema del piano urbano della mobilità sostenibile e quindi si ricrea questa collaborazione con Igi a Lorenzo e con Ecomob che quest'anno oltretutto ha un progetto ancora più ambizioso rispetto agli altri anni perché sarà presente nel cuore della città.